. . . . . . . . . casse godine ? mamma! mamma mamma! la mia mamma.. mamma! 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 questo è l'amico e quello che mi ha preso? no ho lei è un po' non è un po' che è il flash non c'è un po' chiamolo non si non è questa che ho detto perchè la mia testa e anche la mia testa ma mia mia città e allora non è che i amici che mi ha detto ma non è che non so ma mia bambina che c'è che c'è qui? che c'è qui? che c'è qui? L'arra che c'è chi ha il suo jabto? Che c'è chi ha l'ha? Qu'è chi ha l'ha? La l'ha che c'è chi ha l'ho S C'è chi chi ha l'hai e baka Chi 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 chi? Chi 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 chi? Come che... puoi rompere puoi rompere puoi rompere lei non è possibile? Non c'è un po' così, si vedi il posto e guarda alla cima Non è un po' di sentire Non c'è un po' di sentire Se sentire a lui chiara, non c'è un po' di sentire Ok! Non c'è Poi, prenda il nostro po' di sentire Poi, prenda Poi, prenda, prenda Poi, prenda qui? Non c'è un po' di sentire La faccia di prenda Noi! Bocchè, prenda l'amore! Come, vai! Come, vai! Vai! L'amore! L'amore che il buono era L'amore che delle cose non ci stagiste. L'amore che ci stagiste? Noi, non ci stagiste. Alla cosa che conosci, noi non ci stagiste! Si, hai detto, è stata fatta! Evidere le 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 le! Mi hanno a bello ho uno per me Hai una bello uno per me Tocchi Dove sei Tocchi Oddio Tocchi Te lato la mamma Tocchi Tocchi Dove sono le mamma Tocchi e se ci guarda che non si scappone? non si guarda non si guarda? ma non si guarda non si guarda ok, guarda ma te dice che ti devi chiedere ma non c'è cosa? non c'è una giusta e si guarda Lato Lato fighta che? zanni lascia la, chiesci no, fai IL 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 LATO ague, manca, bye no, 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 no. bad l'acqua, parlo Lelo Lelo il il nostro il nostro cuore ha inutita che il suo soft toing ci piaceva a con lui e lui il nostro è che questo è che non ha dato chi è il tuo bambio? chi è il bambio? il bambio? il mio bambio? io io è il bambio non è il bambio che è il bambio che dai qui favorite ONTr vanity si affitta ogni cosa fa prima è inizia ai banni non pagole pag giftedmente è mio figlio la quella del mio figlio si senti questo si senti si senti è in grado si senti a tutti i amici si senti sono piccoli con questa non c'è non c'è non c'è questo motivo non mi piace tanto dai si tolgo ma non lo so e questo si tolgo si tolgo si tolgo si tolgo si tolgo si tolgo tolgo su, non ci algo non si aspetta l著i nessuno aia non si aspetta l'aphi si aspetta l'aphi no aia e aia aia nia mamma che preghi faccio più tardi? ah guarda al"? Luca paradi al più velo mun benefici infatti ah ora, chi è venuto del destino? ci abbiamo rie najle e anche ci abbiamo nero ci ci sono del destino ci sono di qui? ci ci sono ci sono ci sono stati ci sono stati sui in aqui, mani? non, non mi OR게 si è venuto non vedo chi schiena no 달 6 score non no se la Ma la e ci Dove come! Voi PMI! Si face a la mano Come! Mi a salto? Voi! Voi Stiamo! Voi? Voi. Labes è un po. Labes è un po. Voi! Labes è un po. la domanda si cazano bene sanno si cazano no si cazano He chmmm In00 mi ricordi che pesce Non ti stanno comprando? Non c'è nessun perceber Non ha chancato Ma ho chiesto Non assisting Non ti stanno comprando Non ti stanno comprando Non ti stanno comprando E' un poco Non ti stanno comprando Non ti stanno incipre un po' ma non anche a chi fa vedi un po' di te vedi da te le ti la la Gabbara dici že Gabbara giù Gabbara giù Gabbara Gabbara qui ho fatto che usare Gabbara quindi con le con gli altri e la mamma ha detto che non è assicurata non è aggresso ma cosa fare? è arrivato in una casa questa è una volta di lavorare non è bella non è bella se non ti senti se un'escritto non ti senti Bambu. . Bambu. 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 Aprep. Aprep. Bambu. Bambu. I ane che lei ha il mondo maggi maggi so now taste taste kara maggi 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 so maggi si maggi 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 bu 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 non ho capito non ho capito mi hanno capito e mi hanno colato oggi ho fatto una magia mapple come si può fare una magia? come si può fare una magia? non mi piace maggi o non mi piace? non mi piace maggi non è meglio e anche se cammini in qualche giorno ibuoi essere una speciale mangia io gli ho la pan e sono i venduti e ho il modo di avere un pan e non ho fare da le mangi io non ho venuto e ne fanno ma io gli ho sempre come perchè mi piace gara maggi pot mangia E' un po' più caldo E' un po' più caldo Mi piace il sugo Maggi molto piacenti Mi non è anche così Ma non ci sono già mai Ma non ci sono mai Ma non ci sono mai Un anno C'è un anno E' un anno Sì, quando è molto Ma non ci sono mai Ma non ci sono mai maggi è molto buona a quel momento mi piace molto di gura non cazzo che i am getting food e loco e loco mi piace anche La mia caccia anche la caccia La mia caccia anche la caccia Siamo assurando che la caccia la caccia La caccia è fatta